Si conferma in netto calo la curva epidemiologica del coronavirus in Irpinia, solo due i nuovi casi intercettati su 390 tamponi analizzati dall'azienda Moscati di Avellino e dall'Istituto di ricerche genetiche Biogem di Ariano Irpino. Un dato confortante dunque è quello che emerge nell'ultimo bollettino dell'ASL rispetto allo screening accelerato, avviato ormai da una settimana e portato avanti anche con la somministrazione di migliaia di test rapidi. Sulle verifiche richieste dal Dipartimento di Prevenzione sono risultati positivi i tamponi riferiti a due persone entrambe asintomatiche, una residente ad Ariano Irpino e una a Grotta Minarda, entrambe individuate proprio attraverso il test rapido perché contatti stretti di casi risultati positivi. I due nuovi casi fanno salire a quota 452 i cittadini affetti da Covid-19 registrati finora in Irpinia. Intanto continua da parte dell'azienda sanitaria locale l'azione di monitoraggio sul territorio per rintracciare i soggetti asintomatici, potenziali veicoli di contagio a loro insaputa. Su questo fronte infatti l'ASL ha potenziato i controlli per cercare di intercettare il maggior numero di casi possibile. L'obiettivo, contagio zero, ora si comincia ad intravedere.